Non abbiamo dubbi che la maggior parte dei cittadini sono veramente rispettosi, hanno senso civico e invece chi esegue atti deplorevoli come quelli che abbiamo registrato sulla scuola di gare sia una minoranza. Un segno di positività nei confronti della nostra cittadinanza e di quei cittadini che veramente credono in noi e si adoperano per la nostra città. Grazie a una generosa donazione in memoria di due concittadini scomparsi, la signora Maria Rosa dell'Agostino e l'avvocato Dario Moretti, il Comune ha avuto la possibilità di acquistare sei nuovi defibrillatori semi-automatici. Tre di questi sono stati posizionati nelle frazioni. Luoghi meno vicini al presidio ospedaliero e per i quali serve più tempo per l'attivazione dei mezzi di soccorso, due davanti alle scuole di Via Vanoni e alla Racchetti e uno proprio qui in piazza Garibaldi davanti a Palazzo Martinego. Aumenta così la possibilità di intervenire in tempo in caso di persona colpita da un arresto cardiaco. In tutta la provincia sono 527 i DAE censiti. L'operatore di Soreu, se nelle vicinanze è presente un DAE censito, può chiedere a chi è in posto di andarlo a recuperare. Se poi è formato, chi lo recupererà saprà anche utilizzarlo. Se non formato, potrà essere utilizzato assistito dal personale e dall'operatore di Soreu. Grazie a tutti.